IPS SRL, azienda leader in Campania, opera nel settore del recupero dei rifiuti inerti, specializzata nel trattamento e nel recupero di terre e rocce, fresatura d'asfalto, rifiuti urbani, fanghi e trattamento meccanico. Dispone di competenze e professionalità in grado di rispondere a tutte le esigenze del settore. Qualità dei servizi offerti, consulenza ambientale specifica, ne fanno un'azienda completa e dinamica. IPS SRL, via tagliata 1, San Martino, Valle Caudina, Avellino. Sinceramente volevamo essere anche un po' più aggressivi, però loro hanno giocatore di qualità tra le tre quarti, Pier Felice Romano ha fatto una buona partita, gli esterni li sapete, l'attaccante si è mosso bene, noi Caruso ha fatto bene, non uscivamo con i tempi giusti, poi il gol ci ha ulteriormente abbassato di energie perché ci siamo troppo abbassati, non avevamo più quello spunto per andarli a prendere e quindi il primo tempo abbiamo fatto male per quello che abbiamo visto. Il secondo tempo è iniziato allo stesso modo, però poi dopo loro sono ganati perché purtroppo hanno varie defezioni, quindi non possono cambiare molto e mettere molta qualità. Noi invece abbiamo potuto mettere dei giocatori importanti che stavamo aspettando come Della Monica, De Mari, La Luna, Castaldi, Mesisca e quindi oggi la differenza l'ha fatta la completezza della Rosa e quello che ci ha consentito di vincere. Mister, con questa vittoria si aggancia la parte altissima della classifica e ricordo voi avete una cara in meno proprio contro la sua ex squadra Gesualdi, diciamo che è un campionato bello equilibrato ma livellato verso l'alto e lo si vede dalle partite, dai risultati più che altri. Adesso la classifica non ha molta importanza, noi sappiamo qual è il nostro ruolo in questo campionato, dobbiamo crescere, dobbiamo migliorare, dobbiamo fare meglio partita dopo partita. Il livello rispetto all'anno scorso è cresciuto, si fa fatica a vincere tutte le partite e quindi bisogna sempre stare belli concentrati. Adesso pensiamo mercoledì alla Coppa e poi ci prepariamo con quest'altra partita con Bellizzi che è una squadra che mi ha fatto un'ottima impressione domenica scorsa e sarà dura. Grazie a lei Mister.